Io credo che gli altri paesi europei quando devono far valere il proprio interesse nazionale, economico, lo fanno senza troppo badare ai richiami dell'Europa, è una scelta politica quella di accettare supinamente i diktat della Commissione o ripeto i diktat del paese che in realtà è più forte economicamente e politicamente all'interno di questa Europa che la Germania rispetto a far prevalere l'interesse nazionale. Vorrei dire una cosa sulla questione ai migranti visto che ho sentito l'intervento di Renzi che chiede più risorse dall'Europa per far fronte all'emergenza, chiede più risorse anche perché l'enorme business dell'accoglienza sta iniziando ad andare in crisi perché avrete letto anche voi che molte di queste cooperative, associazioni, hollus caritatevoli che si stanno arricchendo con la gestione della presunta emergenza ai migranti stanno iniziando ad andare in corto di risorse perché il governo non ha più i soldi per pagare i famosi 35 euro al giorno. Quindi diciamo che il sistema sta iniziando ad andare in corto circuito. Ma il tema è che noi non dovremmo chiedere più soldi all'Europa per poter continuare ad alimentare questa politica scelerata. Noi dovremmo porci la domanda del perché l'anno scorso 107 mila giovani italiani, per rovinienti per lo più dalle aree più ricche del paese, da Lombardia, Veneto, Piemonte, per lo più qualificati e laureati, se ne sono dovuti andare da questo paese per trovare lavoro e allo stesso tempo noi abbiamo di fatto importato 200 mila disperati che vanno a creare una concorrenza tra il settore del lavoro e della manodopera di basso costo. Noi dovremmo porci una domanda su questo. Cioè ha senso continuare ad alimentare questa politica e questo flusso che intanto non si fermerà mai perché non è un'emergenza, perché quelli che arrivano qui sono per lo più migranti economici, quindi quelli non finiscono, oppure il caso che il nostro governo faccia una politica di interesse nazionale e quindi blocchi le frontiere, questa è la questione.